Signor Tencent, mi chiede un rato fuori del presupposto, però quedando naturalmente nella riunione del Parlamento, noi possiamo comprender che ayer c'era un incidente che è stato un luogo nella riunione del Parlamento tratando del presupposto e noi possiamo comprender che è una buona persona, che è stata iniziata e interessa la situazione. Che cosa è il caso di ayer durante la riunione? No, è stato un incidente lamentabile, a me deve essere lamentabile, perché non mi sta passando, ma che è una maniera assombrata con quello che sta passando. È stato un momento in cui noi stavamo trattando il presupposto, un di un oratore che stava, magari, non c'era il discurso, mi sta parlando di riferire con il presidente di Stato, il signor Paul Cruz. Nel momento, è stato un problema di una parola, è un oratore che stava iniziando, che è stato un consiglio, quindi mi sono messo, mi sono accEReduto di Dino, o di Bosi, ma non mi sono accEReduto, ma mi è piaciuto, è stato un gabbè, Ah bo, mi vieno a Paul Cruz con il presidente, mi dice Hey, la verdad è che mi sta attendendo? Mi chiede con gente, dice parole, senadora, non mi... E ora mi dice, ripiti che mi dice? E ora mi vieno agresiva, mi dice, ah, non c'era bo... Mi dice, che mi sta dal bo, mi dice... Mi dice, che succede? Ma trovi dice Paul Cruz, mi dice, hey, stai amenazando a me tambi? E ora mi dice, stai amenazando a me? Mi dice, stai amenazando a me, stai amenazando a me, mi dice... E ora mi dice, è la vera, è la perda. Mi dice, si sta bo, influencia di qualche sustan... Mi dice, però un genio normal non sta acto assim. E mi dice, a qui sale, fai su stul e carabrino. Senta pa' Juan David e Ruskin, aguantele, e la gira arranca su bate, quibri fai otro. Despe, dos, otro mas, mi dice, aguantele. La vai, vien arriva a mi, despe, trovi, vai, bec... Despe, la trovi, vien bec... Pero... Este è un atto bolloso... Di mia parte, mi dice... Che tope gente ha citato una storia... Pero... H storia, di verda, sta... che venire qui usano le parole di insulto. Il primo è l'amenazamento, il primo è la briga del Parlamento. Inoltre un po' messe, non posso comprare che una gente normale, che sono i miei colleghi, che sono in una riunione pubblica, che sono i miei ministri, che sono i consiglieri, che sono i pubblici, perché mi hai pensato che a quanto la baisser, stava passando via Canal 46. Se mi penso, un tic, non è normale che non è. E quindi si sace, e si non si sa, e che brinca, e che dorme.